Danneggiati i parcometri località Ogliastro Marina nel comune di Castellabate, ignoti nel pomeriggio di ieri hanno utilizzato dell'acido per rendere i macchinari inutilizzabili. Si definisce atto vandalico, qualsiasi azione volta danneggiare o distruggere senza alcuna ragione, scrivono dal comune. Quello consumato ad Ogliastro nel pomeriggio di ieri purtroppo rientra in questa categoria, infatti ben due parcometri sono stati danneggiati, anzi messi fuori uso con l'utilizzo dell'acido. Il danno ammonterebbe a circa 6.000 euro, 6.000 euro che il comune sarà costretto a pagare a causa di azioni figlie di inciviltà e del poco rispetto. Pertanto condanniamo fermamente queste azioni, molte volte frutto di inutili critiche strumentali. Forse dovremo un po' tutti imparare a praticare la civiltà e il rispetto prima di prenderlo dagli altri, concludono dall'ente di Castellabate.